E dai sacrifichi per il bene della scienza Te la vieni del culo Te la vieni del culo Qua sta culo Ha provato a spingermi di sotto E cascato a lui Ciao a tutti e sono i Beto Reisotti Gaming Siamo qui su The Forest E siamo per continuare la nostra avventura in caverna Ma che cazzo è stata a fare Roberto Pierrettoni Siamo di vedere i cannibali Di maggio la gamba guarda Buona la gamba No hai rotto il tuo No non c'è stato io Adesso c'è soltanto un cadavere che brucia Una zappa per aria Autocombustione Basta mangiare i cadavere che ma che cazzo fa Con la lancia sento se cotto No non è cotto ancora Lasciatelo stare Torniamo in caverna ragazzi Andiamo a cercare la porta mortale di Timmy Tony tu vai più forte di me però Ma che tu se non sei allenato Eh si ma è un coppia che so allenato Basta noi siamo i sette nani Sto salendo di nuovo se non mi togliete Oh basta stacchete un po' Allora aspetta che il gioco Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri a te Alla merda di Mario Aspetta aspetta Tanti auguri a te Mi tocca pure il burame maledetto Oh che per chi non lo sapesse il 2 novembre è stato il mio compleanno E loro hanno deciso di Oh ma già e basta mi è stato a mena con le mano Nel giorno dei morti Il giorno dei morti è diventato una festa Perché sono nato io Quindi ci dobbiamo andare Come cazzo ho fatto Roberto Io stavo a scendere E' tutto Roberto Eh ma da qua ha un problema Ma come avessi sceso Piano piano Cascando sui pezzetti buoni Perché non ci vede niente Ma Pier è caduto come cazzo Guarda Pier come cade Oh ci siamo Ok Quello è un cazzo Piede roba Ma mamma No c'è caduto Roberto Piede è morto laggiù Ma Pier è morto laggiù Ma che tazzo c'è qua C'è la cosa brucia Aiuto Aspetta 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 Che metto Metto le luci di compleanno Ok No Mi soffriranno Mi do cura Mi venite a rialzare Dove sei? Infatti si Ma qua c'è un mostro però Ehi non lo penso Pregatene Dove sei Tony? Eh siamo di là Eh ma devo scappare Ok aspetta Roberto Io ti distraggo il mostro E tu Valla raccoglie Sto provando Qualcosa che poteva fare La bomba quella Ma dove è Robert? Che è il suo casino? Aiuto! Guarda! Vuoi passare! Ardito! Oddio! Oddio! Ci sta! Ci sta! Entrate! Entrate! Entrate alla porta qua dietro che si è aperta! Vedi qua! Vedi qua! Dove sono io? Dove sono io? Oh! Oh! Che cazzo è? Dove sono io? Dove sono io? Dove sono io? No! Mi ha spinto fuori questo! Ah! PR! Addio! No! No! Si è salvato pure PR raga! Sono vivo per miracolo! Volta puttana! Oddio! Pure lui passa! Tutto grasso che è! Roberto ti rendiamo un pezzetto che se no vedo fuoco! Andate avanti! Andate avanti! Ragazzi sa che cazzo c'è come un mufatto! Entra qui dentro! Sì ma io vorrei ritornare! Io li ho mufatto tutto! Allora ragazzi quando sono caduto giù si è aperta la porta di trime! Io l'ho sentito quando si apriva! No! No! Non ci sono mai! Guarda che cazzo! C'è un ponte fino fino! La sotto c'è l'acqua o c'è qualcosa di mortale secondo voi? Puttati! Che morbido! Piero! No no! Buttate un po' un attimo! Un po' di ticco! No no no! Io non mi sacrifico! E dai sacrificati per il bene della scienza! Te la fia del culo! Te la fia del culo! Ha provato a spingermi di sotto il cascato a lui! Te la fia del culo! Te la fia! Bastardi! Che bastardi! Ha provato a buttarmi di sotto! Comunque si può risalire eh? Si è vero! Tuffo a bomba! Ah! Porca troia! Non possono passare i coglioni! Guardali guardali! Chi ha aperto la porta? Chi era aperta? La fortuna ne potevano passare! O beri mortali! Ti faccio cascare tutti i denti! Maledetto! E c'è! E c'è! Non è nulla! Via, via! Oh, vediamo da mire! Passato, ranzino! Sicuramente ma andata in un'altra parte! Non è qui! 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 io 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 sono morto pur io però vabbè il bruciazosso non è stato proprio un'ottima idea però dai ammazzatelo poi alzatemi dai con una mazza con la testa il tuo cazzo vuoi annatto vuole essere amichevole io ho la testa di tua sorella ma dove c'è? buttati nel buco della ormai siamo pro ok sto arrivando eh mi dote scusà ma telefonata è importante allora vedete lì secondo me lì è un tunnel dove sto indicando col dito che non vedete il mio dito però vedete dove sto guardando ma donna come sono buggato il stiloso non mi spegnete raga non mi spegnete no lo spegnete oh stassa uno oh oh chi è che gli lancia le bottiglie di vetro e indietro rispetta la gravità grassone l'età accendere modo è vero mi impecino c'era Piero e tu è la persona che sta a lanciare molto spente mamma quanto sei imbecilo muori ah no sei tu scusa Piero quanto ce n'hai da Molotov? finita ma vaffanculo le tirate sedici tutte è stato bello è stato bello è stato bello la 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 ok 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 ce so 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 vai 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 no a me mi prendono me mi prendono me lo sento me lo sento un giro back e qui non c'è spazio per potete tornare a pia ok sono arrivato sono arrivato sono arrivato pure io ok dai siamo tutti siamo tutti no io no sto arrivando s'astellando come andi guarda intanto c'è i ciccioni che li corrono dietro so vanno a nuotare meglio di noi correte che questi arrivano fino a qui guarda che silenzio adesso guarda che figata però ho paura raga non so dove cazzo si vanno a cacciare ehi la Mario vai prima tu che così l'abbiamo trovata l'abbiamo trovata l'ascensore l'abbiamo trovata davvero nooo guardate che c'è scritto non è avviabile nooooo comunque cazzole finalmente siamo arrivati alla porta del bot l'ascensore come chiamatelo come vi pare si siamo arrivati ma non è ancora avviabile quindi aspetteremo concreteremo qui per il momento la serie aspetteremo che alcuni aggiornamenti che diventeranno disponibili anche queste parti del gioco e poi continueremo la nostra avventura qui all'interno del bolt detto questo ragazzoni spero di essere divertiti con noi mi raccomando continuate a seguire tutte le nostre serie e continuate i video con i vostri amici per ritarci a crescere non solo tutti da comando wolf da Tony, da Roberts e da Pierre ciao a tutti ragazzoni ciao 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 ciao